Questo è il canale vaginale e l'utero che in realtà non è esteso verso l'alto ma si ripiega, si flette in avanti e quindi nella parte anteriore avremo la vescica. La pallina singola che viene introdotta all'interno del canale vaginale resterà più o meno a questa altezza o poco più su. La stessa cosa vale per l'uovo di giada. Quando parliamo di palline doppie andiamo a utilizzare la doppia pallina che lavorerà all'interno del canale vaginale per tutta la sua lunghezza. Quale potrebbe essere il motivo di utilizzare la pallina singola o doppia se vogliamo andare a stimolare la muscolatura più alta del canale vaginale? L'utilizzo della pallina singola è consigliata nel primo approccio e va a stimolare la parte della muscolatura inferiore e il fatto che abbiamo una pallina all'interno su queste trasparenti si vede un po' meglio all'interno c'è una pallina che come abbiamo detto prima varia di peso introducendo la pallina all'interno del canale vaginale e muovendoci, quindi facendo movimenti anche quotidiani questa pallina all'interno va a stimolare anche quella muscolatura involontaria che attraverso un arco riflesso si mette in moto.